Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. In questa puntata di oggi parleremo di un accessorio che in realtà era già presente nel nostro catalogo, terminato, richiesto davvero tantissimo da voi. Ebbene lo abbiamo riproposto in una versione nuova, ancora più performante. Analizziamo nel dettaglio il set secchiello. Analizziamo allora nel dettaglio il nostro set. Si compone di due parti, una quella superiore che è questa, vale a dire il giroborsa che ha una circonferenza totale di 84 cm. Poi abbiamo la tracolla che invece ha una lunghezza totale di 54 cm e che ha una misura della luce, vale a dire da qui, dal giroborsa fino alla fine, di circa 26 cm. Il diametro invece della tracolla è di circa 2 cm. Per quanto riguarda invece i fori presenti sul giroborsa sono di 0,4 cm, vale a dire 4 mm. Troverete anche ovviamente questo laccetto che potrete tranquillamente modellare a seconda dell'uso che dovrete fare della borsa per l'appunto. La seconda parte invece di cui si compone questo set è questo, vale a dire il fondo, che invece misura 28 cm di larghezza per 18 di altezza. E anche qui abbiamo una larghezza del foro di circa 0,4 cm. Vediamo adesso le cinque tonalità di cui si compone il set secchiello. La tonalità che abbiamo visionato finora è questa, vale a dire la variante cuoio. Questa invece è la variante panna. Questa invece è la variante bordeaux. Questa è la variante nevi. E infine concludiamo con la variante, quella che possiamo definire più classica, vale a dire il nero. Cinque tonalità di colore per accontentare davvero i gusti di tutti. Oltretutto vi consentirà di realizzare delle borse che abbiamo visto ultimamente davvero tornate di moda. E potrete utilizzare davvero qualsiasi tipologia di filato. Pensate sì ai cordini quelli più classici ma allo stesso tempo la garanzia di qualità che Tessiland può vantare, quale ad esempio il sublime. Oppure abbiamo visto che la grandezza del foro è di circa 4 mm. Quindi anche qualcosa con uno spessore maggiore, quale ad esempio il tornado, potrebbe senz'altro tornarvi utile. Poi avete visto, la versione attualmente presente del set secchiello ha questa parte in ecopelle visibile sia da un lato che dall'altro. In modo tale che sia davvero un orgoglio poter sfoggiare la vostra creazione. Ricordiamo le ultime due cose ma non meno importanti. Vale a dire il fatto che sia un prodotto 100% made in Italy. Che come sapete essere garanzia di qualità e garanzia che Tessiland cerca di offrire ormai in tutti gli articoli presenti nel catalogo. E poi non pensiate di riuscire a trovare un set come questo altrove perché è un prodotto esclusivo di Tessiland. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, su tutte le nostre edizioni, su tutte le nostre rubriche. Noi ci vediamo al prossimo prodotto. Ciao! Ciao!